Siamo con Terrasi, uomo della propria squadra, il migliore in campo dell'autosquadra, oggi eravate partiti bene, 3 gol, 3 a 0 per voi, voi però avete subito la rimonta degli avversari e la partita si è conclusa con un risultato di 5 a 3 in vostro sfavore. Comunque si è stato autore di un'ottima prestazione, delle bellissime parate e fino a quando hai retto la baracca, diciamo così, vogliamo commentare con te la partita e la prestazione tua in particolar modo. Abbiamo trovato bene il primo tempo soprattutto, abbiamo tenuto i loro attacchi, erano stati uniti, poi il secondo tempo che abbiamo fatto i gol ci siamo allargati, abbiamo sbagliato e quindi poi abbiamo gestito molti spazi e lì siamo andati in difficoltà, ci sono troppi punti nel mezzo, troppi chiacchi e sempre la fine delle partite, perché fino a quando si erano già coordinati noi abbiamo fatto un'ottima partita, però siamo più forti praticamente, ma noi abbiamo detto benissimo, poi si comincia a parlare, abbiamo mollato di troppi chiacchiere e l'abbiamo ceduto, loro hanno approfittato e abbiamo preso del gol subito e quindi la partita è finita. Comunque sì, ecco, sei stato autore di una pregiovole prestazione, quindi i complimenti vanno comunque a te. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.